Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick, ben arrivati ragazzi su Espresso Tycoon Come sempre prima di iniziare con questo nuovo video vi vado a ricordare che se può interessarvi in descrizione trovate un link che vi permette di comprare tantissimi giochi scontati per pc e console Un'altra cosa ragazzi, in descrizione trovate anche i miei social, se vi va potete ad esempio seguirmi su Telegram, TikTok, Twitch per le live Ultima cosa ragazzi, se vi piacciono i miei video potete iscrivervi al mio canale YouTube Ricordatevi anche che potete attivare la campanellina così ricevete una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video qui sul mio canale Allora ragazzi, Espresso Tycoon, gioco nuovo uscito più o meno da due settimane Non so di preciso che gioco è, cioè immagino che dobbiamo gestire una caffetteria però non so, non l'ho ancora visto proprio insomma Quindi proviamo la campagna, intanto però ovviamente non è detto che farò altri video su questo gioco, dipende se il gioco mi piace, dipende se il gioco vedo che fa insomma un buon risultato Se viene visto da un bel po' di gente, se c'è interesse in pratica va, quindi potrebbe essere un unico gameplay Comunque, campagna Allora, rendi più bello il mio camioncino Ah si comincia col camioncino Hai vinto un concorso intitolato, ne ho abbastanza del lavoro in azienda Il primo premio ti offre l'opportunità di fare uno stage in una delle tante caffetterie mondiali convenzionate Il tuo viaggio inizia a Città del Capo in Sudafrica Dove potrai imparare a gestire un piccolo camioncino del caffè e acquisire preziose competenze commerciali Obiettivi della missione Vendi 5 caffè Ok, ah qui c'è Fico Ok No, mi interessa il primo Già, partiamo dalla cosa base Ah ah Vabbè praticamente l'inglese ha detto quello che c'è scritto qua E vabbè comunque a proposito il gioco è tutto tradotto in italiano eh, tanta roba Pensate un po' quanti giochi tripla A ultimamente che escono e non li fanno in italiano Poi abbiamo questi giochi diciamo indie Questi giochi fatti da Da aziende più piccoline che però li traducono Alle volte non per niente bene però Almeno ci provano Ok inizia missione Il gioco continua dopo il filmato Non c'è la musica Va bene L'ho disattivato ovviamente perché sapete che YouTube ama i copyright Quindi ok Vabbè insomma il gioco è in 3D Per un attimo ho pensato forse il Oh no 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 Cagate Ho detto cavolate Ok iniziamo a creare un marchio Un brand Quindi logo Ah ok possiamo scegliere il logo Mettiamo 3 chicchi di caffè Non lo so Che ne sa Che ne faccio io la nick coffee Che ne sacci Nick Caffè Come si scrive in inglese Caffè Quante f ci va Quante f quant'è Facciamo coffee Facciamo in italiano che è meglio Nick e caffè Andrà bene Perché là è così grande Facciamo così Va bene Buona dai Ah possiamo scegliere lo stile No questo mi piace Il colore Giallino Vabbè Vado Wow What a brand I bet your place will attract customers like bees to honey Or like pigeons to coffee Wait what's going on Non ho capito niente signorina Quello che dice lei Intanto qua arriva uno che è buono per pulire il pavimento Che succede Un piccione Oh A piccio Che caspita fai Se vabbè Signor Michael Jackson dei piccioni I've seen many weird things in my career But a caffeinated pigeon is definitely something new In any case let's learn how to navigate the scene By the way If you ever need help with any task Just click the show me how button for more detailed instructions Ok Va bene Va bene Mi so muovere Non so zoomare a dia La verità Forse non si può Ruota la telecamera Con che cosa Ah ok Pretty easy right But that's not all In our world you can fly around freely like a pigeon You can switch from strategic to pigeon Or cinematic camera mode To see the world from different angles Try it now Ok proviamo le telecamere Passa cinematica strategica Mostrami come Tab Ah ok Ok Uh Ah bella questa Mi piace Così posso guardare le persone Complimenti signorina Ammazza Te praticamente quasi C'hai le spalle attaccate alla testa Ok Va bene Ok Now that you know how to move the camera Let's get to work First We need to buy some chairs and tables So people can sit down and relax We should also consider adding some additional lights Ok Compra sedie Tavoli Luci Ok Allora Apri Decorazioni Ok Allora Due tavoli dobbiamo mettere Aspetta Tavoli Ok Aspetta Aspetta Sai che ti dico Mettimi sta telecamera Perché mi piace di più Che posso vedere da vicino Ah quanti soldi abbiamo noi 1500 dollari Ok Bello Ah ok Ok lo zoom qua ce l'abbiamo Non lo so Ma dove li dovrei mettere mostri tavoli Li potrei mettere qua Vabbè vai io ci provo a metterli qua dai Poi due sedie Si può girare come si ruota Eh bella domanda Aspetta Mo HP Oddio E mo come 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 gliela giro Ah qua forse Ah R Ok E lampada Questa è Oddio Sul tavolo No Eh effettivamente Tutte le lampade Non lo so Vabbè se no Una Quanto ne vuole Una E la metto qua dai O la metto qua Perché bene o male Di là c'è più luce Che ci stanno queste Allora La mettiamo Qua Ok Ci vuole il menu Ok Ok Mi ricorda Pizza Connection Allora Aggiungi espresso al menu Aggiungi americano Ok Cosa vuoi fare con questa ricetta di caffè Aggiungi al menu E aggiungi l'americano Vabbè facile Allora Allora lei Ha per noi Assunto un barista E ha pure Comprato Le scorte Del caffè Quello che serve Insomma Oh Arriva il primo cliente Che praticamente Pare una lucciola Tutto che brilla Signor Signor Prego Il primo cliente Che devo fare con questa ricetta di caffè Clicca il cliente Ok Allora Occasionale Prendersela comoda Vivere la giornata Rimanere Ma che sta a dire Non ho capito Allora 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 Lui dice Il caffè Ha un buon prezzo Poi Attività attuale Sta andando al tavolino Soddisfazione Soddisfatto Posso addirittura Offrire uno sconto Allora Chiudi Finestra Ok Certo Aspetta Come caspita Oh Sto cercando di capire Ok E Ok Ah ok Dobbiamo andare a scegliere Il prezzo Del caffè Ma Che vuol dire Il margine Ah che io Il caffè Lo pago 34 centesimi E ci guadagno Cioè 92 e 34 Lo pago 34 centesimi Io E ci guadagno 2 dollari Euro Proviamo a far così Facciamo una roba simile Quale è quello evidenziato Ah non l'ho mica L'ho notato Hipster Hipster Sempre a caccia di un nuovo caffè artigianale Biologico Privo di umorismo Strano Privo di crudeltà Ammazza Mi sembra Uscito Dal film di Cosoli Come si chiama Lino Banfi Senza humor Poco questo Poco quello Ok vuole caffè d'asporto Ma noi non ne facciamo per ora Allora Clicca X Ok Allora dobbiamo prendere le tazze d'asporto Apri Forniture Prodotti Mazza quanta roba Prodotti monouso Ordina tazze d'asporto E quale caspita so Ah Ah so tutte d'asporto Ah Però più pago Più So di qualità Che significa 30U Capacità unitaria Aspita vuol dire Capacità unitaria Vabbè Provo a prendere quelle da due stelle Va Quelle di buona qualità Che vuol dire Unità da ordinare Ah ok Ho capito Praticamente Uno Quanti scatoloni Voglio Ogni scatolone Contiene 35 35 Bicchieri Consegna immediata Oppure in otto ore Mi pare che vuole che devo fare Ammazza consegna immediata così tanto mi costa Immediatamente mi costa 275 dollari Ma che è un furto E mi pare che è l'unica cosa che posso scegliere Da pazzi Da pazzi E' arrivato tramite il drone Raccogli il pacchetto Delle tazze Ma sei contento Disgraziato Ho speso una cifra Solo per venderti un caffè Ho speso 275 dollari Per un caffè d'asporto Vedete dove è il mio guadagno qui Non c'è guadagno Non ci si guadagno Ho sbagliato Vabbè C'è un altro cliente in attesa Chi l'aveva notato Questo è uno studente Vabbè Che vuoi Mi piace lo stile Ok Certo Le persone non sono tutte uguali Quello l'ho capito Che devo fa' Rimuovi i rifiuti Ah lei Porcacciona Ok Prova a mettere in pausa Il job E che cavolata Ci vuole Pausa Ok Potrai sempre tornare Sì vabbè Ho capito La velocità Aumenta la velocità Fatto Mettiamoci Allora ok Sarebbe bello Offrire loro Dell'acqua da bere Mentre i padroni Si godono Una tazza di caffè Ah Per che cosa Per gli animali Sì Animali Ok Dobbiamo offrire Vabbè L'acqua per gli animali Allora Decorazioni Do caspidemo Questa cosa Dell'animale Qua Ciotole per cani Forse su altro E mo valla a capire Piante Pavimenti Pareti Snack Armadietti Tutte le categorie Altro Speciale Speciale Sì Ciotola per cani E Un'altra Bola Mettiamo da questo lato Controlla se hai ancora Dei chicchi di caffè Allora Dobbiamo ancora vendere Tre caffè Per completare Questa Missione E Suggerimenti Che caspita è Me Espresso Ordina Ah che ho finito il caffè In tre ore Vediamo se Vediamo se arriva Non ci sono abbastanza Forniture Non ci sono abbastanza Forniture Porca Cazzozza Eeeh Questa Proprio che Proprio era zero Non me l'aspettavo Però Allora Forniture Vediamo un po' di capirci Cos'è I clienti Non possono acquistare Espresso Ho capito Ho capito Allora mettiamo un attimo In pausa Cerchiamo di capire Una cosa Io ho ordinato qualcosa Ci metto tre ore per arrivare Dove posso vedere le cose che ho ordinato Finanze Missione Clienti Punti No perché dobbiamo capire Spazzatura Clienti Caffè venduti Ok Menu Opzioni Perché io devo capire No Cosa ho ordinato Perché tipo Io ho ordinato qualcosa Però Non sto Allora È possibile preparare Zero tazze Ah ok Ecco L'ho trovato Ok Serve come chicco Il me Espresso Quindi sia l'espresso normale Che l'americano Usano il me Espresso Ok Quindi quello che ho ordinato Va bene per tutti e due Filtro per acqua Non sto a capire Ne ho 120 Cioè quanto Cioè quanto mi basta sto filtro qui Non lo so Ok Vabbè E E quello che ho ordinato Dove lo vedo Tempo in pausa Quello che io ho ordinato Eh niente Ho capito E mamma aspetta che mi metto a spendere una barca dei soldi Tre ore Vabbè Dovrebbe arrivare a breve il caffè Ma Dove caspita si capisce Dove si capisce Quanto manca prima che arriva il pacco E qua L'ultima cosa che non ho capito Eccolo sta arrivando E mo abbiamo i chicchi Forniture Espresso puro Ah ma ho capito Il mespresso significa che fa schifo Che non è buono Ah Ho capito Ci capisco poco ma No ci capisco poco e niente però Comunque unità in magazzino Sai che ti dico Ma per quello che costa Ma io ne potrei ordinare pure un pochino di più Tanto che cosa costa 14 dollari Andiamo no Che devo avere il caffè contato Dove è Cioè cosa ci faccio Se no Tre unità Che caspita vuol dire Ah qui si vede Ah qua si vede quando arriva Ok Qui mi dice Quando arriverà il caffè che ho ordinato Perfetto Ok Ok L'unica cosa che non ho capito è Con questi 500 grammi Ah 500 grammi di caffè Ci abbiamo E con 500 grammi di caffè Quanto caffè ci faccio Ah Ho capito Un caffè So 35 grammi Quindi 10 10 caffè So 350 grammi Quindi più o meno ci faccio 13-14 caffè 13-14 caffè Più o meno ci faccio Quindi Con quello che ho comprato Dovrei fare a meno Una cinquantina di caffè Prezzo americano Molto conveniente Sai che ti dico Che ti aumenta il prezzo Comincio a capire Missione compiuta Hai compiuto un piccolo passo Come imprenditore Ma un grande balzo Come staggista Il tuo camioncino del caffè Nick Caffè A Cape Town È un luogo dove la gente Si sente rilassata Sorseggia del caffè Delizioso E si diverte Con i propri amici pelosi È tutto pronto Per un'altra avventura lontana E per finire Abbiamo depositato 2000 dollari Sul tuo conto bancario Augurandoti di personalizzare La tua caffetteria Nel modo che preferisci Allora Continua a giocare Oppure vai alla missione Pro successiva Ma penso che Sti 2000 Valgono per qui Tipo se io faccio Continua a giocare Ok Mi ha dato 2000 dollari È arrivato il caffè Quello così così Allora Quindi vabbè Se volessimo andare Un pochino avanti Perché tanto Non è che mi resta Altro tempo Per la prossima missione Quindi Volendo io Potrei prendere Magari altri tavoli Potrei prendere Qualche altra sedia Oppure aspetta Posso mettere tipo Più tavoli Allora Il problema è Muoversi qua No Cioè a parte più tavoli Più sedie Perché alla fine Voglio dire Che è un problema Se si siedono insieme Alle volte Io ce provo Che me frega a me Ok Qualche altra lampada Magari una bella Lampada centrale Se non è un problema Spazzatura rimossa Tanto per snack Non abbiamo snack Pareti Non abbiamo Pavimenti Piante Se volessimo mettere Qualche piantina Qua e là Però aspetta Non deve esagerare Che qua i soldi Volano Ovviamente Se metto Troppa roba I soldi Se ne vanno Ok Boh Ci sta per ora Posso anche Spostare questo Tipo Se non mi piace Come si spostano Aspetta Come ho fatto io A creare Qua Ah ok Sì Quindi posso anche Spostarlo Se non mi piace E allora sai che ti dico Questo lo metto qua Meglio Mi piace di più Espresso da asporto Vai compa Vai Nick e caffè Vai Bello Dai Comunque il gioco È carino Soprattutto Il fatto che Uno può guardare Così Cioè Che ti puoi guardare I dettagli Che ti puoi guardare Tutto A proposito Ma sto tizio Che Cioè A parte i clienti Cioè Ai dipendenti Non è Non è Non posso Aspetta Che cosa ha fatto Il cliente Americano Costa troppo Americano Abbassiamo Di un pizzico Che c'è Espresso Conveniente Vabbè Te lo lascio Così il prezzo Quanti caffè Abbiamo venduto Finora Punti stile 37 Boh Classifica Spazzatura Da rimuovere Allora Clienti All'interno Della caffetteria Due Abbiamo venduto Finora Nove caffè Gioco veloce La gente Si siede Dieci caffè Venduti Quello è Da asporto Ok Se volessi Vedere Le forniture Prodotti Monouso Tazza Trofeo Ne abbiamo Quante ne ho Ancora A disposizione Cioè Ah Qua lo vedo Contiene No Qua Quante me ne avanzano Ancora Di tazze Trofeo Intanto io le ordino Non lo so Quante Quante ne ho ancora Quindi meglio Prenderle Come faccio a capire Quante tazze Ancora Da asporto Mi son rimaste Non ne ho La più palida idea Questa è una Di quelle cose Che non capisco Tra otto ore Arriva Ma intanto Ho fatto bene A comprarle Perché otto ore Cioè Comunque Se io non so Quanto tempo Me durano È un problema Dov'ha quello Dov'ha il mio operai A piscià dietro Dietro Non c'è spuglio Che ne so Dov'è andato Che caspita ha fatto Americano Sta bene Ma dove va ogni volta Scusami Non ho capito Ma ogni volta Che arriva il cliente Fa il giro Dell'isolato Qua Non ho capito No questa non l'ho capita Qualcuno me la deve spiegare Ah ok Comunque si siedono insieme Dai buono Così fanno amicizia Magari Però Non ho afferrato Non ho afferrato Perché ogni volta Che qualcuno Ordine e caffè Lui esce E va a farsi in giro Questa cosa Non Non l'ho ben capita L'americano Ok tra poco Mi arrivano Le tazze Dall'asporto Però Ecco Non sto a capire Quante me ne sono rimaste Di tazze Dall'asporto L'americano Dall'asporto Ma perché fai sto giro Ma che è un bug Booo Palla a capire Sta per Per arrivare Le tazze Dall'asporto E faccio bene A comprarle Perché Non sto a capire Neanche quante ne ho Allora abbiamo preso Le tazze Dall'asporto Ah Unità In magazzino Due Ecco Meglio averne due Che niente Boh vabbè Ma In magazzino Due Filtri per acqua Vedi Ah Ne abbiamo Ok Potrei anche Poi prendere Dei filtri Più buoni Tipo Filtri Buoni Di qualità E potrei anche Prendere Del caffè Di qualità Il discorso è Come faccio A dirgli A lui Di usare Il caffè Buono Invece Di quello Tipo Come faccio A dirgli Usa il caffè Buono Invece Di quello Non buono Forse Forse Nelle forniture Alzando Questo Potrebbe essere Ci vogliono Undici ore Per portarmi Il caffè Sì Ciao Ciao Te saluto Undici ore Ma non si può mettere ancora più veloce Ah così è stra veloce Ottimo Boh tanto non manca niente in teoria A parte che devo togliere la spazzatura Quindi il gioco si può mettere stra veloce Così vediamo se possiamo fare il caffè quello più buono Ok buona questa cosa che si può mettere stra veloce Il gioco Ed è fluido eh Beh è bloccato a 30 fps No Boh Forse Pepepepe che succede Che succede Partita Ah autosalvataggio Ok Oh è arrivato qualcosa Il filtro Dovrebbe arrivare a breve il caffè quello buono Mi pare che il caffè buono è arrivato Ok allora se io volessi fare col caffè buono Gli dico Su Espresso rubacuori Dovrei fare lo stesso credo col filtro Esatto Esatto Difatti vedete adesso il caffè viene fatto Il caffè viene fatto con quello di qualità migliore adesso Quindi potrei anche alzare un po' tipo il prezzo Perché giustamente oh eh Sto caffè me costa di più Vediamo se si lamentano per il caffè Il prezzo americano è un po' alto Ok si lamentano L'americano ha abbassato un po' Nessuna recensione Forse per via dell'attesa Il prezzo espresso un po' alto Fiamo così Ok ragazzi dai Credo che il gioco l'abbiamo provato abbastanza bene Credo che adesso Finisco qui il gameplay Ragazzi spero tanto vi sia piaciuto Questo gameplay Come sempre mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione in su Ci becchiamo presto Ciao alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.